La dannazione eterna non è una sala di tortura, ma allontanarsi dal Signore nell'errata convinzione di potercela fare da soli. Nella Messa a Matutina, Papa Francesco è tornato a parlare della fine del mondo, ripercorrendo la prima lettura dall'Apocalisse di San Giovanni. A tutti il Pontefice ha chiesto di avere un cuore umile e mite, lasciandosi accarezzare da Gesù, riconoscendo i propri limiti e i propri inevitabili errori. Quanti invece sono superbi e orgogliosi, convinti di essere autosufficienti, sono destinati a cadere nelle seduzioni del serpente antico, il diavolo. Lui è un bugiardo, più è il padre della menzogna. Lui genera menzogne, è un dolore. Ti fa credere che se mangi questa mela sarai come un Dio. Te la vende così e tu la compri. E alla fine ti truffa, ti inganna, ti rovina la vita. Ma padre, come possiamo fare noi per non lasciarsi ingannare dal diavolo? Gesù ci insegna mai dialogare col diavolo. Con il diavolo non si dialoga. Cosa ha fatto Gesù con il diavolo? Lo cacciava via, gli domandava il nome, ma non dialoga.